Prendiamo di serie tv Allora, nei tag della live ho messo il tag no spoiler Quindi mantengo questa promessa Però intanto vi racconto di queste due serie tv Allora, questo in realtà come già ve lo dissi Per chi c'era, ve lo dissi già nella scorsa live Questa nuova parte di rubrica Di diretta dove vi parlo di film, serie tv e anime Sostituisce la parte dove vi parlavo dei videogiochi Questo perché comunque avendo finito di parlare dei videogiochi Ai quali ho giocato Per non parlarvi di un videogioco del quale ho solo sentito parlare E che non ho provato in prima persona Preferisco magari parlarvi di serie tv Insomma, spero possa sostituire al meglio La parte dedicata ai videogiochi Poi è chiaro, se c'è qualcuno interessato ai videogiochi Comunque sappiate che se dovessi giocare a un altro videogioco Che mi dovesse prendere particolarmente Ovviamente ve ne parlerò molto molto volentieri Quindi, la prima serie tv della quale vi parlo è Lost Allora, in questo senso Devo ringraziare in realtà mio zio Massimo Che me la consiglio la prima volta E vabbè, ormai è passato tanto tempo In questi giorni sto facendo il rewatch di tutta la serie Sono arrivato più o meno a metà della sesta stagione Quindi ecco, ce l'ho abbastanza fresco Quindi ve ne parlo Allora, comincerei leggendovi la trama della serie Che recita come segue Il 23 settembre 2004 L'aereo di linea 815 della compagnia Oceanic Airlines In volo da Sydney a Los Angeles Precipita su un'isola appartenente Apparentemente disabitata I 48 sopravvissuti si accampano sulla spiaggia E si organizzano per resistere fino all'arrivo dei soccorsi Che però tardano ad arrivare Ma, ben presto, scoprono che il loro aereo è uscito dalla rotta prevista di circa 1000 miglia E che l'isola è teatro di una serie di eventi apparentemente inspiegabili Nel tentativo di trovare un modo per fuggire Si rendono conto che altre persone prima di loro Sono naufragate su quell'isola E probabilmente sono ancora lì Contemporaneamente iniziano a nascere amicizie e tensioni Tra i vari superstiti Le cui storie personali ce l'hanno molti segreti Con cui saranno costretti a confrontarsi Date le presenze misteriose intorno a loro Intorno a loro Ovvero i cosiddetti altri Che ne pensate? Allora, chi ha visto Lost? Chi non ha... Se qualcuno non avesse visto Lost Per caso sono riuscito ad incuriosirvi? Molto bello, anche io lo sto rivedendo Ok, meno male Personalmente, ecco, su questa serie posso dirvi Quindi, appunto, vi ho già detto che in questi giorni Sto facendo il rewatch di tutta la serie Sono arrivato quasi a metà della sesta ed ultima stagione E se non l'avete mai vista In realtà vi consiglio vivamente di farlo Perché in realtà è una... A prescindere se possa interessarvi come genere Però io ritengo che vada vista assolutamente Perché è una pietra miliare Del... Proprio del format serie tv È stata un po' la prepista di tantissime serie televisive Che oggi apprezziamo tantissimo Come Breaking Bad Stranger Things Game of Thrones E tante altre Quindi, ecco, questo è quanto su Lost Lo trovo intellettualmente stimolante Crea tante situazioni Incastri temporali Una narrazione complessa Che consente una partecipazione notevole Dello spettatore Molto fiego Sì, sì, sì E comunque, ecco Era una delle primissime serie In cui, ecco, si è investito tantissimo Cioè, tantissimo Si è investito parecchio E che ha fatto... Che ha spopolato Poi, ecco, è diventato un po' la pietra miliare Di tantissime altre serie similari E poi, ecco Tralasciando la stessa e l'ultima stagione Che è un po' Meh Un po' così Però comunque Tutto il resto, comunque, davvero è Una serie veramente fantastica Poi considerate, ecco, è del 2004 la serie Vederla sembra comunque Un po' più recente Però in realtà 16 anni, praticamente Lost Un po' più recente 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 Un po' più recente